È stata prima di tutto una partita molto fisica, noi tutti siamo abbastanza provati fisicamente, ci dispiace un po' forse la battaglia del territorio, l'abbiamo un po' accusata nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo provato quel kicking game a andare un po' più lunghi per farci dare la palla a metà campo più o meno, però sì, è stata molto fisica. Come ti ho detto il kicking game e il territorio è stato secondo me cruciale e poi magari qualche imperfezione, qualche dettaglio nella fase offensiva dove magari potevamo cercare di tenere un po' più il possesso, però sono tutte cose che andremo a lavorare su cui si può migliorare assolutamente. Sicuramente è un'Italia che fa il suo punto di forza nella difesa e nel gioco fisico, vogliamo però mettere un mattoncino in più su quello che è il nostro sistema offensivo e sicuramente in settimana faremo un ottimo lavoro a riguardo.